Vi siete mai chiesti come mai sono così sicuro di arrivare sempre a destinazione? Pur guidando un'auto elettrica che non fa mille mila chilometri e che con le colonnine che si sa a volte vanno e a volte invece hanno qualche problema? Beh, io sì, ho una Tesla e quindi sono un po' più sicuro che tutto funzioni correttamente ma ci sono anche altre accortezze di cui vorrei parlarvi quindi partiamo, io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video Mentre Tesla sta continuando a crescere esponenzialmente sia in vendite che in strutture e l'auto elettrica in generale sta avanzando grazie anche ad una forte spinta dello Stato rimane comunque un concetto abbastanza nuovo La maggior parte delle persone che acquista oggi un'auto elettrica lo fa per la prima volta e non sa quali sono le differenze dall'auto tradizionale Beh, almeno io credo che siano conoscenza che non c'è un serbatoio di benzina ma c'è una batteria e che il motore non ha i pistoni ma è elettrico Ma detto questo, ci sono tante altre cose da conoscere Un paio di giorni fa sono stato intervistato per gli Electric Days e una delle domande era proprio rivolta a questo argomento ossia qual è la cosa che ti ha aiutato di più nel tuo percorso da promotore delle auto elettriche La mia risposta è stata conoscere bene il mio veicolo Se vi ricordate ho fatto un video dove portavo la batteria della mia Tesla dal 100% allo 0% Ecco, in questo modo ho potuto capire che il range, il numero di chilometri per intenderci che sono espressi sul display dell'auto è solo una previsione Infatti in gergo si chiama indovinometro perché cerca di indovinare quanti chilometri si faranno ma non ha veramente senso Dopo averlo capito ho sostituito l'indicatore dei chilometri con quello della percentuale della batteria Ma pensandoci bene, oggi io metterei direttamente kilowattora della batteria perché anche la percentuale mostrata in realtà è comunque falsata Tutti i carmaker la falsificano Solo un'auto non lo fa ed è la BMW i3 Come lo so? Un amico e collega Leonardo che sviluppa Power Clutch Control che è un'applicazione che dialoga con l'auto direttamente tramite OBD e conosce quindi il dato preciso me lo ha confermato Quindi la prima cosa da sapere è che in tutte le auto elettriche il range espresso in chilometri si basa su quanti kilowattora sono disponibili nella batteria ma chilometri indicati non sono quelli che puoi fare sono solo quelli che teoricamente secondo il ciclo VLTP potresti fare Tanti credono erroneamente che questo dato sia basato sulle vostre abitudini di guida non è così quindi a mio avviso averlo e non averlo è uguale tanto non è assolutamente attendibile meglio quindi a questo punto avere l'indicazione della percentuale di batteria residua l'autonomia vera della vostra auto dipende per lo più dall'ambiente che vi circonda e da come guidate il miglior modo per monitorare l'autonomia è utilizzando la vista energia che purtroppo solo Tesla ha nativamente in questo momento questa visione monitora l'utilizzo istantaneo della batteria o quello medio ecco il range indicato lì è veritiero sempre che ovviamente continuate a consumare la stessa quantità di energia il consumo però dovete sapere che varia ovviamente dipende da tanti fattori diversi la stessa cosa vale anche per le autotermiche ma sono sicuro che per chi ha un'autotermica il fattore consumo istantaneo sia e rimarrà per sempre un mistero perché? perché pochissime auto ne monitorano così efficientemente i consumi come invece fa da sempre un'auto elettrica ma allora quali sono i fattori che determinano un consumo superiore al normale? primo viaggiare ad alta velocità alta velocità intendo sopra i 120 km orari secondo viaggiare nel traffico quindi stop start stop start non fa di certo bene ai consumi fare viaggi corti di pochi chilometri anche questo può determinare un consumo eccessivo viaggiare in salita ovviamente anche lì in salita l'auto consuma di più perché deve spingere di più e poi c'è il meteo in clemente quindi pioggia, vento, neve eccetera ecco tutti questi fattori sono da considerare quando si ha un'auto elettrica ma sono gli stessi che comunque si dovrebbe considerare anche quando non si ha un'auto elettrica diciamo che con l'auto elettrica ci si sta attenti perché attualmente le colonnine sono poche e non capillari come dovrebbero essere ma con il passare del tempo le colonnine diventeranno sempre di più e ce ne sarà una veloce in ogni distributore di benzina quindi questo non sarà più un problema un'altra cosa che migliora i consumi e lo stato di salute della vostra batteria e che può aiutarvi a mantenere se non migliorare l'autonomia della vostra auto è la routine la prima cosa importante da fare è quella di caricare sempre la vostra auto ad una bassa tensione quindi a casa durante la notte per esempio lì potrebbe essere un'abitudine anche facile da prendere come quando arrivate a casa la sera e mettete il cellulare sotto carica questo permette alla batteria di caricarsi lentamente senza mettere inutili pressioni e caricare il supercharger o la colonnina fast solo quando ne avete realmente bisogno quando ad esempio siete in viaggio quando caricate la batteria il vostro stato di carica è molto importante per mantenere ottimi risultati si consiglia di non caricare oltre il 90% e di non far scaricare la batteria mai sotto il 20% questi due valori possono variare dal tipo di batteria che avete ma al momento solo un'auto ha una batteria che può essere tranquillamente caricata al 100% più volte senza che si rovini ed è la Tesla Model 3 Standard Range Plus cinese che monta batterie LFP ecco questo modello specifico è ok caricare al 100% ma con tutti gli altri modelli e marche di auto è meglio non caricare mai al 100% o farlo solo se dobbiamo fare un viaggio molto lungo e comunque è altamente consigliato di utilizzare subito l'auto e mai lasciarla al 100% mi raccomando non lasciate mai la vostra auto al 100% di carica le batterie a litio infatti soffrono se le lasciate al 100% e questo vale per le auto elettriche ma anche per i cellulari, i tablet eccetera esistono infatti degli apparecchi come questo che automaticamente staccano la corrente quando si arriva quasi al 100% in maniera tale da limitarne i danni per il vostro telefono mi viene in mente appunto questo prodotto che mi hanno inviato per prova un paio di mesi fa e devo dire funziona egregiamente in sostanza si mette davanti all'alimentatore e monitora lo stato di carica della batteria raggiunto il limite stacca automaticamente la carica se poi volete saperne di più ve lo lascio qui in descrizione dal sistema infotainment dell'auto elettrica si può andare ad inserire il limite di carica nella Tesla è facile nelle altre invece bisogna un po' smanettare nei vari menu ma fatelo perché è veramente importante non caricare mai fino al 100% anche perché un'altra ragione per tenere la vostra batteria sempre attorno al 90% è la frenata rigenerativa che è un altro sistema molto importante che troviamo su tutte le auto elettriche che aiuta a massimizzare l'efficienza se caricate l'auto al 100% o anche al 95% per intenderci la frenata rigenerativa sarà completamente assente la frenata rigenerativa per il tramite del motore elettrico converte l'energia cinetica che è l'energia data dal movimento dell'auto in energia da stivare nella batteria tramite la decelerazione quando accelerate parte dell'energia che andrete ad utilizzare sarà stata appena immagazzinata dalla frenata precedente ecco questo gioco di forze chiaramente va ad aumentare l'autonomia del vostro veicolo per chi guida una Tesla ci sono tre modalità bassa, standard e la one pedal drive adesso non so se i nomi sono questi non mi ricordo ma quest'ultima la one pedal drive è quella che ha più incidenza riesce anche a fermare l'auto per la maggior parte invece delle altre auto elettriche la frenata rigenerativa ha solo due livelli il normale oppure il B tranne per alcune tipo Hyundai, Kia o Nissan che se non mi sbaglio hanno le palette dietro al volante che permettono di regolare la frenata rigenerativa dinamicamente poi ci sono alcune regole base da seguire per migliorare l'autonomia del vostro veicolo sono piccole regole ma che possono aiutarvi tanto se hai l'ovetto sul tetto della tua auto rimuovilo se non lo usi sembra banale ma tanti lo hanno montato in inverno perché dovevano magari andare in vacanza a sciare e poi non lo hanno più tolto se la tua auto ha le sospensioni ad aria impostale il più basso possibile quando vai in autostrada perché più sono basse più il consumo sarà inferiore non viaggiare con i finestrini aperti si sa che l'attrito con l'aria è molto importante ecco se viaggi con i finestrini giù tutto il lavoro degli ingegneri sarà stato vano non viaggiare con il baule pieno se non ne hai bisogno 10, 20 o anche 30 kg di materiale nel baule potrebbero fare la differenza se hai una model 3 ed hai i cerchi aero usali migliorano l'efficienza e a proposito di cerchi aero avete visto questa società svedese? questi si avvalgono di un'azienda italiana con sede a Bergamo la Fondmetal sviluppano i cerchi aero per model SX e anche model 3 sono in lega ultra leggera sono più belli degli originali e se li comprate con il mio codice sconto avrete 10% in meno quindi bene così a me arrivano a fine mese sicuramente ci farò un video quindi stay tuned altro consiglio è quello di non viaggiare costantemente con il condizionatore acceso magari non ce n'è neanche bisogno poi ovvio se fa freddo o fa troppo caldo accendetelo ci mancherebbe settimo consiglio preferite l'utilizzo del riscaldamento dei sedili al condizionatore dell'area perché sicuramente è più efficiente sia che abbiate la pompa di calore sia che la vostra auto elettrica usi il condizionatore con le resistenze parlando poi di clima bisogna fare una parentesi perché freddo uguale male assoluto per la vostra auto elettrica in quanto il freddo rallenta la reazione chimica delle batterie quindi eccovi alcuni consigli per tenere al caldo la vostra batteria quando possibile parcheggiate la vostra auto in posti coperti il garage ad esempio è sicuramente più caldo della normale strada quindi l'auto non si ghiaccia se fa freddo perché è un po' al riparo dal vento e dalle intemperie in generale altra cosa importante il riscaldamento è vostro amico quindi tenete sempre la vostra auto elettrica attaccata alla corrente questo aiuta la batteria a rimanere calda e non vi preoccupate di caricarla troppo perché il computer di bordo se mettete il limite a 90% non andrà mai oltre il 90% poi riscaldate la vostra auto elettrica ogni volta che dovete partire per un viaggio lo potete fare attraverso l'app ormai tutte le auto elettriche ne hanno una e il pre riscaldamento è un'opzione che ormai è largamente diffusa quando lo fate tenete la vostra auto collegata alla corrente così non prenderà energia dalla batteria ma direttamente dalla colonina di ricarica date sempre un occhio alla pressione delle gomme meglio riempirle di azoto così con gli sbalzi di temperatura e di altitudine non avrete problemi di pressione delle gomme e infine utilizzate la funzione di programmazione della partenza per pre riscaldare la batteria e anche per pre riscaldare l'abitacolo ecco questo non tutte le auto ce l'hanno e anche se siete bravi e tenete presente tutte le buone abitudini di cui vi ho parlato ci sarà sempre in agguato il famoso degrado delle batterie ma questo ragazzi è inevitabile sia che abbiate le batterie di nuova concezione sia che abbiate le batterie dell'era precedente niente è infinito certo ci possono essere anche problemi alla batteria ad esempio non so un danneggiamento dovuto ad un incidente ma questi generalmente vengono visualizzati nel computer di bordo e nel caso di Tesla l'assistenza viene avvertita immediatamente generalmente poi sempre parlando di degrado i primi anni la batteria si degrada più velocemente quindi nel giro del primo anno potreste perdere anche il 6% ma poi il degrado si assesta nel prossimo futuro ci saranno aziende che certificheranno questo dato e credo che poi diventerà lo standard per la vendita delle auto elettriche usate appena ne saprò di più ci farò di certo un video nel frattempo iscrivetevi al canale così mi aiuterete un po' a crescere noi ci rivediamo ogni martedì e venerdì qui su youtube con un nuovo video e la domenica sera in live per rispondere a tutti i vostri dubbi ciao ragazzi a presto a presto